Ciao a tutti ragazzi, siamo Mauro Napoletano e oggi voglio parlare dei nuovi acquisti che ha fatto il no, cioè di Pavoletti. Allora, per me è un acquisto che è un po' sì e un po' no, perché comunque prendi già la maglia di guain, il no. Che cazzo serve dai, la maglia di guain tu vuoi prendere? Quello già è tutto così, pur che l'altro. Poi non voglio stramatizzare, ecco. E ho detto, vabbè faccio sto video, forse qualche tifoso mi potrà rispettare. Però io voglio dire al presidente, ma scusa, prendi un calciatore che sia di qualità, che va ad attaccare l'aria, che non è fermo, non è fermo. E lo era i guain, un merte, tipo merte, però merte, punta, non è punta. Lui è alla sinistra, è alla sinistra, non è punta. E tu prendi Pavoletti, canta e fermo. Qua non servono più gli attaccanti fermi, divolo, non servono più. Qui serve quello che attacca la profondità. E Pavoletti per me non è che è un grandissimo acquisto. Se il Napoli avesse preso Icardi, il Napoli sarebbe primo, sarebbe primo, ma primo, cioè 10 punti sopra la Juventus. Però, però, per finire, non spendi, ecco io, spendi 100 milioni per quei, spendi, oppure spendi prezzato, ma non spendi quei cazzo di soli che tieni. Ce l'abbiamo insieme, perché non ti vuoi prendere un cazzo di attaccante buono? Icardi lo era, Icardi lo è, cioè è un grande attaccante. Se in una squadra a 14 vuoi, è una squadra che, scusate, a tutti i tifosi inderi fa cacare, è una squadra che fa cacare, cioè vabbè, mostrano che si è in un buon periodo di forma, abbiamo, cioè, tu non puoi prendere un attaccante fermo. È come se ci fosse lo stesso schema dell'anno scorso. I guai che tutta la scuola giocava per me. Invece no, cazzo! Invece no! Avevo chiuso terzo nel 2016. Vabbè, l'anno scorso avevamo chiuso pure secondo. Però, Dio, per le partite importanti, tu dovresti mettere un attaccante buono, tipo Icardi, tipo Zan, tipo Cavani. Scusate. Influenza. Cavani! Cioè, tu potevi mettere Cavani. Cavani che è un attaccante non buono di più. Tu lo potevi prendere a gennaio. E il paesino si prendeva benissimo, eh? Ma non ci voglio credere, no? Tu potevi prendere Cavani e 50 milioni, gli dàvi lo stipendio che vuole. Oppure Ibra! Ibra! L'anno scorso avevi Ibra! A zero euro, era svincola! E tu devi voler dare un po' di 20 milioni. Ma tu veramente? Ma dagli i 20 milioni! Quello se li può meritare i 20 milioni! Ad che guai! 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 Si sta riprendendo, sta facendo assist. Poi questo rogue che non viene mai usato, mai, viene usato, l'ho messo solo negli ultimi minuti di Napoli, però vabbè, non ci possiamo fare niente. Ragazzi, spero che da queste parole si capisca un po' di comprensione e noi ci vediamo al prossimo video, scusate.